Ciao a tutti, sono Antonella Confortola, sono qui nella mia casa di Ziano di Fiemme e siamo a gennaio, gennaio 2016. Quindi presto saranno 10 anni dalle nostre Olimpiadi Italiane di Torino 2006. Questi 10 anni sono passati molto velocemente, tanto che non sembrano nemmeno 10 anni. Però, pensandoci bene, sono successe tante cose, quindi il tempo passa, ma i ricordi rimangono ancora molto nitidi di quelle Olimpiade. Io ho fatto 4 Olimpiadi, Torino è stata la terza e quella che, per un certo verso, forse è la più bella. Ogni Olimpiade è un'esperienza unica. La prima, quella di Nagano, in cui ero molto giovane, quindi vivi tutte le esperienze come qualcosa di nuovo e molto grande, molto emozionante. Poi c'è stato Soulclay City e anche lì è stata un'esperienza unica, perché c'era tutta questa preoccupazione per gli attentati, tutti questi controlli. Invece è stata un'Olimpiade bellissima, le piste erano molto dure e il posto era davvero grandioso, quindi è stata un'altra grande esperienza. Poi è arrivato Torino, Torino forse l'Olimpiade più attesa, preparata meglio. E lì è arrivata anche la medaglia nella nostra Italia, quindi è stata proprio una cosa davvero unica ed emozionante. Abbiamo preso una medaglia nella staffetta, una medaglia di bronzo, nella staffetta femminile di Cidifondo. Una staffetta vuol dire vivere un evento, una gara, tutte insieme, dare il meglio anche per le altre. Ed è qualcosa che si prepara non in una settimana o in un mese, ma è qualcosa che abbiamo preparato tutta l'estate. Infatti penso che sia stata proprio la unione, la voglia di vincere qualcosa insieme che ci ha fatto ottenere questa medaglia e quindi è stata ancora più bella. Tutte e quattro, oltretutto, siamo nel corpo forestale dello Stato, quindi questo ci ha reso ancora più unite e ha reso questo evento ancora più speciale. Di Torino ricordo l'atmosfera di quel giorno, il viaggio che abbiamo fatto in macchina per arrivare sul campo in gara, noi quattro in cui si poteva toccare l'andrenalina che avevamo nella macchina. Poi la gara, che tutto sommato è passata molto veloce senza rendersene tanto conto. E poi tutto il resto della giornata in cui è successo molto velocemente, tutte le cose sono successe molto velocemente e me le ricordo in maniera un po' vaga. Quello che ricordo bene è l'abbraccio che ho avuto con i miei familiari dopo la staffetta, l'abbraccio con le compagnie di squadra e poi la gioia di poter condividere questa giornata con il mio marito adesso, che ha potuto venire con noi a Torino alle premiazioni e vivere anche lui questo avvenimento. E' stato qualcosa davvero speciale, la premiazione in piazza a Torino, tutte le persone, andare a Casa Italia. Poi dopo le Olimpiadi abbiamo avuto la fortuna di andare a Roma dal Presidente della Repubblica, al Curinale. E' stato qualcosa di unico, molto grande e quindi ci sono tutti questi ricordi uno vicino all'altro. Dopo Torino ho fatto un'altra Olimpiade, ho fatto Vancouver, che anche quella è stata una bellissima Olimpiade perché siamo state nel villaggio olimplico, abbiamo condiviso quindi il posto con tutte le altre disciplini e quindi vedi una realtà un po' diversa. Poi logicamente in questi anni sono cresciuta, quindi ti godi le Olimpiadi in un'altra maniera. Mi ritengo fortunata di aver potuto fare quattro Olimpiadi, di aver partecipato alla nostra Olimpiade italiana a Torino e di aver vinto una medaglia lì, averla vinta in staffetta perché questo rende la medaglia ancora più bella, ancora più significativa e aver potuto condividere questo evento con i miei familiari che erano lì e con tutti gli italiani che ci hanno seguito in pista alla premiazione ed hanno reso il tutto davvero speciale.